Ingredienti per due persone una coscia di tacchino 200 ml di latte di soia senza OGM quindi biologico uno spicchio di aglio sale rosa dell'Himalaya coriandolo in semi anice, anche questo è semi pepe verde chiodi di garofano procediamo con la preparazione prendiamo una gasserola e appoggiamo il tacchino, io l'ho tagliato per far penetrare le spezie meglio all'interno prendiamo il latte e lo versiamo sopra il latte rende la carne ancora più tenera sale tiriamo coriandolo i semi del coriandolo che andrà a insaporire il latte anice anche questa semi di anice pepe verde e chiodi di garofano aggiungiamo lo spicchio d'aglio che ho schiacciato lasciamo insaporire per circa due ore dopo un'ora circa giriamo la coscia così si insaporisce anche dall'altra parte trascorse le due ore prendiamo una pirofila io uso questa in vetro portiamo le patate e la coscia tutta qui e inforniamo a 180 gradi per un'ora e inforniamo a 180 gradi per un'ora